Da dicembre, con la scadenza della convenzione, i profughi rischiavano di diventare clandestini, ma con Etting People sta trovando delle alternative per impedire a queste persone di trovarsi da sole in strada e addirittura in pieno inverno? Sì, va detto che è una grossa mano fondamentale la data il Ministero degli Interni, che ha previsto la possibilità di poter dare a ognuno di loro un permesso umanitario della durata di un anno. Le procedure burocratiche però si concluderanno non prima del 31 dicembre e quindi da quel momento tutti i nostri ospiti potranno avere un documento regolare che gli permetterà di poter circolare sul territorio e poter anche lavorare regolarmente. Alla luce di ciò noi abbiamo chiesto agli organi governativi di poter prolungare l'ospitalità fino al 31 di marzo, stiamo ancora aspettando la risposta perché è chiaro che il timore è quello di dover accompagnare fuori dall'albergo tutti i nostri ospiti nel momento più freddo dell'anno. Tenete presente che questo problema non riguarda solo noi ma riguarda circa 20.000 persone in Italia. Rispetto al loro futuro, quel poco che siamo riusciti a fare, gli abbiamo offerto anche alcune possibilità occupazionali e formative, stiamo però con loro cercando di ragionare e discutere e confrontarci su quello che sarà il loro futuro a partire dal, speriamo, primo di aprile. Su questo il nostro personale che è formato da operatori, mediatori, psicologi, assistenti sociali sta lavorando in modo molto sotto. L'aspetto positivo che ci dà buone speranze è che in questo anno e mezzo molti di loro hanno avuto la possibilità di costruire rapporti e legami con amici, con nazionali e parenti che si trovano sul territorio nazionale e quindi quello che immaginiamo è che la gran parte di loro nel momento in cui avranno il permesso definitivo in mano si allontaneranno volontariamente dal territorio eporediese. Avete anche previsto dei progetti per continuare l'accoglienza e la loro integrazione? Allora, noi a partire, conclusa l'emergenza Nord Africa, proponiamo ai comuni con cui abbiamo collaborato in questi mesi di poter far diventare il RITS sede di uno SPRAR che accolga un piccolo nucleo di richiedenti asido. Accanto al RITS noi possiamo mettere a disposizione anche i diversi alloggi che abbiamo già realizzato e costituito su questo territorio. Per cui sicuramente offriremo un'ospitalità a un numero decisamente ridotto ma vogliamo farlo all'interno di una cornice che è quella ordinaria ovvero quella di integrazione con gli enti locali e con il ministero. Quindi non più emergenza ma ordinario. Ci sono anche altri progetti? Certo, rispetto al futuro del RITS quando si chiuderà l'emergenza Nord Africa noi abbiamo dei progetti molto concreti su cui stiamo lavorando. Il primo è quello di costituire una casa dello studente rivolta a giovani studenti immigrati che vengono in Italia per studiare ma che molto spesso si trovano nella situazione di non poter proseguire gli studi per problemi molto banali, non riuscire a dare i primi esami universitari che permettono di rinnovare i permessi di soggiorno. E a questi noi potremmo fornire un supporto professionale adeguato. Un secondo progetto è quello che riguarda le decine di bambini figli delle nostre badanti, delle nostre colf o dei muratori che lavorano su questo territorio che in genere provengono dall'Europa dell'Est o da altri paesi stranieri che hanno il problema di avere i figli in patria non hanno la possibilità molto spesso di poter trascorrere del tempo con loro perché magari vivono nella casa dove prestano i loro servizi noi offriremo loro la possibilità di poter soggiornare a RITS a prezzi molto modesti supportati dal nostro personale, quindi supportati dal nostro assistente sociale supportati dai nostri educatori e psicologi al fine di favorire e mantenere vivo il legame tra i bambini e le loro madri e genitori. Un terzo progetto sarà quello di continuare ad ospitare un piccolo nucleo di richiedenti asilo all'interno dello SPRAR che proponiamo al Comune di Banchette di costituire e all'interno della rete che abbiamo già realizzato su questo territorio quindi per i richiedenti asilo un piccolo nucleo qui ma soprattutto gli alloggi, quindi sparsi sul territorio e Porediese che abbiamo già realizzato e che magari andremo a intensificare. L'arrivo dei profughi e di Connecting People ha comportato anche un cambiamento decisivo per questa struttura, in che modo? Beh, allora, innanzitutto non è più rivolta alla clientela tradizionale Oggi questo posto non può essere meta né di lavoratori tradizionali, uomini d'affari né di turisti e non perché ci siano ospitati i richiedenti asilo ma perché purtroppo una struttura del genere in un territorio come questo non aveva più la possibilità di svolgere appieno quella vocazione e per questa ragione che noi abbiamo decise oggi presentato alla stampa di utilizzare in modo alternativo l'albergo lasciandogli la vocazione alberghiera ma cercando dei settori, delle nicchie di mercato che non sono di clientela tradizionale che abbiano a che fare da un lato con le comunità migranti perché comunque abbiamo un'esperienza su questo settore ed è importante non gettarla e dall'altra che siano capaci di generare economia non solo per l'albergo stesso ma per altre strutture del territorio che offrono servizi Questo potete farlo perché in questi mesi è anche cambiata la proprietà Chi ha acquistato questo hotel? Allora, questo hotel è stato acquistato da una società privata la Piretto & Partners e da una fondazione, la fondazione Xenagos che ha investito una piccola parte del suo patrimonio per da un lato consentire a quest'albergo di diventare un centro d'accoglienza per un periodo temporaneo che oramai è a scadenza dall'altra nella speranza che questo investimento generasse una rendita da reinvestire nel sociale quindi è il classico funzionamento di una fondazione che usa il proprio patrimonio lo investe e attraverso gli investimenti trae gli utili che servono a finanziare le attività La fondazione Xenagos si occupa di migranti e quindi, come dire, il cerchio si è chiuso Secondo voi potrebbe essere anche un buon bacino occupazionale perché? Innanzitutto perché l'albergo di per sé è un'azienda che dà lavoro e poi perché se noi riusciamo a portare grazie al nostro progetto a Ivrea, a Ivrea, a banchette ma nelle Porediese delle persone che poi chiedono dei servizi questo vuol dire far crescere il territorio se riusciamo ad essere una risposta per le persone in formazione e che quindi scelgono di venire in questo territorio perché in questo territorio non hanno il problema abitativo diminuiscono i loro problemi nell'apprendimento dell'italiano sono accolti perché questo è un luogo dove diminuiscono le differenze non aumentano le differenze beh io credo che questo serva a tutte le imprese che sono sul territorio che siano esse sociali o meno Quanti posti di lavoro ci sono al momento e quanti sono quelli potenziali? Allora al momento nell'albergo ci sono 22 posti di lavoro non abbiamo ancora fatto una stima dell'impatto occupazionale del nostro progetto sono convinto però che se si conta sia le potenzialità del progetto sia in termini di lavoro diretto che di indotto possiamo arrivare tranquillamente a giustificare 35 posti di lavoro Grazie a tutti